Naturalmente sì, impattano per quanto riguarda i rami vita sulla domanda, perché le persone in un momento in cui hanno le persone e le imprese meno disponibilità naturalmente risparmiano di meno e tra l'altro da noi come sapete è molto alto il risparmio cautelativo che in questo momento se ne sente ancora più il bisogno, ma anche per quanto riguarda i rami danni il problema è che il rialzo forte dei prezzi porta a un rialzo del costo dei sinistri e questo costo maggiore dei sinistri in parte potrà essere riassorbito dalle efficienze che stiamo cercando in ogni dove. Nelle nostre compagnie dovrebbe esserci qualche riforma che affianchi ma al momento è probabile che nel tempo, non certo nell'immediato, qualche rialzo nei prezzi delle nostre tariffe ci potresse.